bella raga video bonus e allora la 207 arriva domenica massimo cazzo domenica massimo questo video non manco lo edito spero spero qualcosa ce li è dito sicuro però vabbè vedevo di il 16 può essere che se salutiamo regà è finita così sto per morire no non è vero però stanotte sono arrivati come i latari è arrivata sta gente guarda quanti soggetti guarda quanti sono pecla in mamme 8 video 8 video tutti insieme dopo un anno io ci posso pure sta ma tu io metto 5 secondi di canzone non è come uno che te ricarica la canzone che tu doveva sentire la canzone io lo faccio per il meme poi qua c'è la monetizzazione condivisa non ho mai vista sta qua ogni volta una cosa nuova ci stanno le cosette nuove ma non ti dice cioè potrebbe essere 99% loro 1% me non ti dice un cazzo ma se può lavorare così ma che davvero dopo un anno a luna di notte ma dimmelo prima cioè che metto un secondo due solo ma chissà in culo quella canzone non è cattiveria lo metto solo per due secondi perché è triste ah tu non mi puoi paragonare a quelli che ricaricano le playlist dei canzoni e vogliono guadagnarci ma che davvero davvero ma tu pensi a me sto cito ma io te sfondo cioè la gente clicca sul video per sentire a me le cazzate che dico io per sentire la cazzocina tua del cazzo due secondi in un'ora e venti dei video che poi io pensavo almeno inizi problemi da averci lì che ne so con le immagini no sai il fin dei ripotte sai le cose sai e invece ogni volta che mi arrivava qualche bottino a fa no io faceva controversi l'hb o la warner vai tranquillo questa è una recensione doppiaggio tutto e contoso manco io che quindi vai vai sempre con l'audio ste cazzate porca mignotta sempre quando metti due secondi di quei canzoni di quei porasci maledenti io ci ho buttato dei nottati ma che davvero ma che davvero ma devo fai vlog sul serio non vedi che la canzoncina perché è ancora il parkour qual è che non potrò più usarla me sa e no cazzo e no uno ci mette anni a fai video io ce ne ho 60 non ce ne ho 5.000 non si non faccio il gameplay cristo no io gli ho controversiato tutto tutto te controvergio porca puttana quindi questi possono vedere decidete farmi 5-6 strike ad eseguito è bella per voi regà poi da quegli 8 video 5 se ripotte e no cazzo l'unici che mi fanno capare che non me demonetizzano dopo un secondo che li appo ma la sei strusso perché quelli si e quelli no e perché prima è sempre stata la canzone che andava bene adesso no quindi regà scaricatevi video io ve lo dico perché scaricatevi video teneteveli perché può essere che non gli stanno non gli stanno più che te devo dire io ve lo dico però io non ce voglio sta ok ok se beccamo domenica forse se non me stragano prima per manco un decimo di tutta una canzone messa in un video mi rompi i coglioni no ciao